Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, oggi vi parlo da niente po' di meno che dalla Germania Mi trovo a Herzogarnow, non lo dirò mai bene, dove ci sono gli headquarter di Adidas perché anche quest'anno sono parte del Adidas Creator Squad Per chi non mi conosce da più di un anno vi racconto, praticamente Adidas l'anno scorso per la prima edizione ha selezionato uno o due influencers da ogni paese dell'Unione Europea E li ha portati qui dove Adidas ha la sede per farci passare insieme tre giorni all'insegno dello sport e del fitness L'anno scorso ho fatto ben due video e l'anno scorso è stato bellissimo, sono cresciuta tanto in quei giorni Mi sono approcciata a culture e approcci al mondo dello sport e del fitness che mi hanno veramente cambiata E se ho avuto un'evoluzione in questo anno la devo tanto a quello che è successo qui l'anno scorso Quindi io oggi sono davvero eccitata e davvero felice di essere di nuovo qui e di poter rivivere un'esperienza del genere Spero di riuscire come l'anno scorso a portarvi con me e a farvi vivere un pochino di quello che sto vivendo io Trasmettervi tutte le mie emozioni, quindi io adesso sono veramente in ritardo Iniziamo queste 50-52 ore di fitness Ho ritrovato tutti i miei amici Bene ragazzi c'è anche l'odorante a posto Ripercorrere le stesse strade dell'alto scorso Allora in questo sacchetto abbiamo le Edge Bounce Grigie Grigie e bianche E poi questa è la nuova collezione appena uscita Si chiama Prime Knit Flow E tra parentesi l'abbassador globale di questa linea è Zanna Che ha visto il video di Londra con Adidas a ottobre saprà chi è E adesso vediamo come stanno Quando sei finito con le calze We'll switch to the quads So the front side of the top Your heel towards the glute While staying on the same spot Ere Nose Not inside of the nose Shoulder HIT Shoulder Sessioni di warm up fatta ora work out Dopo l'allenamento ci hanno rinfrescati e un pochino truccati Perché abbiamo fatto uno shooting per questo outfit che è uscito il 4 aprile Quindi per Adidas è un lancio importante E abbiamo creato contenuti Adesso merendina E poi si fa un tour del campus Allora scusate la posizione ma mi è più comodo così Abbiamo finito con le attività della giornata E adesso abbiamo un'oretta per riposarci e poi andare a cena Vi voglio chiedere scusa se sono sembrato un po' off in questa prima parte del video Ma ammetto di essere davvero stanca Non fisicamente ma a livello mentale E quando io mi stanco a livello mentale impazzisco Cioè vado proprio fuori di testa Quindi adesso sinceramente non vedo l'ora che arrivi Pasqua Per poter andare a Budapest 4 giorni con Jimmy Stare con la mia famiglia Non dover fare nulla Dover soltanto pensare a rilassarmi Et cetera Scusate avevo bisogno di dirlo Di dirlo anche a me stessa Quindi niente Ci vediamo dopo per la cena Io adesso mi riposo un pochino E dopo Comunque sono tanto felice Oggi cena da Green Lion E il claim promette bene Fitness Food House Che figata Sì veramente Davvero Davvero Ma guardate che bello I brownies vegani Protein cheesecake No vabbè Carrot cake vegana Allora a parte che vabbè c'è il riflesso E non si vede molto Ma praticamente questo è un ristorante Fit Dove praticamente tutto il menù Allora a parte le indicazioni Del senza glutine Senza lattosio E vegetariano Vegano Ah ma anche vabbè I macronutrienti E gli ingredienti listati Nome per nome Che ovviamente sono in tedesco E quindi adesso dobbiamo scoprirlo Oh che bello ragazzi Pangele Allora È un'insalata con pollo Funghi Purè di patate Dolci Broccoli Avocado Pomodori Feta E siccome mi hanno detto Ti portiamo un dressing Ho detto No ragazzi Io sono italiana Voglio l'olio Quindi Olio Questa è un'unhappy love song Che è un'unhappy love song Che ho figure Buongiorno, allora ora sto andando a colazione, sto camminando perché siamo in una parte di staccata dell'hotel Comunque ieri sera la cena è stata buonissima, quelle insalate erano super saporite E dico insalate perché alla fine ne ho prese due perché ero davvero affamata dopo tutta una giornata Un pranzo così al volo in hotel, quindi ne avevo davvero bisogno Però il fatto è che volevo prendere il dolce, solo che avendo preso due insalate ero sazia Quindi ho deciso di potermi portare via una fetta di cheesecake da poter mangiare questa mattina a colazione Quindi ora colazione, colazione, speriamo sia aperto Ah ma io mi sento troppo ispirata qua Abbiamo passato la mattina a creare dei contenuti per un prodotto che uscirà a settembre Quindi ovviamente non vi ho potuto far vedere nulla e non vi posso far vedere nulla Sembra che questa cosa del segreto aziendale sia un po' ripetitiva in questi ultimi video ma non è colpa mia E adesso è l'ora di pranzo quindi finiamo di fare le ultime foto e poi lunchtime Oh che bellezza Fa le dolci, ceci, uovo, un salatino Ecco adesso sono nella parte che più mi piace Avemi sono appena finita di allenare Io se vero abbiamo fatto un allenamento super intenso nel piccolo castello che c'è di là È stato davvero intenso ma rilassante Ne avevo davvero bisogno perché a me serve allenarmi E quando non lo faccio è perché magari sono tutto il giorno fuori, sempre in giro Comunque a me muovere mi piace e ne sento davvero il bisogno E oggi che abbiamo passato tutto il giorno seduti mi sentivo molto nervosa E infatti adesso sono molto più rilassata Ho rilasciato un po' di stress che sto accumulando, come vi ho raccontato già ieri E adesso sto creando dei contenuti per voi che poi vi posterò su Instagram Diciamo che qui le location belle non mancano Adesso abbiamo un'oretta Invece di andare in hotel, farmi la dolce, sistemarmi Ho deciso di rimanere qui a creare video per voi E niente, quindi li vedrete in futuro sul mio canalista Quindi mi raccomando seguitemi E mi diverto così, creando Per oggi abbiamo finito Adesso ci stiamo dirigendo al barbecue all'interno Che hanno organizzato per questa sera Come sempre la mandria si sposta Tutti insieme, tutti insieme Yes Sì le ho che sono cattive, guarda Guarda che io devo tornare a casa a Luna, eh Luna Brava, scappa E questa sera quindi barbecue Oh Che bello Spettacolo Hello Hello Cena di gruppo Ciao 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 Ciao